L'Ufficio Culturale della Repubblica di Turchia a Roma e la Neo Art Gallery hanno organizzato la mostra vicino a noi, una mostra che vuole esplorare le comuni radici culturali tra l'Italia e la Turchia per un'arte che non ha barriere. L'Ufficio Culturale della Repubblica Mettere insieme gli artisti turchi e gli artisti italiani e fare conoscenza di vari artisti e cultura, il colore di due paesi diversi. L'Ufficio Culturale della Repubblica